benvenuti a vivi giappone in questa seconda parte dello special dedicato alle riviste videogiochi italiane del periodo 90 al 2000 se vi siete persi la prima parte andatela a vedere e ve la lascio sopra tra i video correlati l'altra volta abbiamo visto parte delle riviste della mia collezione ma ora di continuare a vedere cosa altro che serve per voi vi dico soltanto PSM ragazzi quindi bando alle ciance iniziamo e torniamo in questo viaggio nel tempo come vedete questa è mega console console 100% siga mega drive mega cd master system game gear saturn mega 32 i coin op da amante della siga non fate sempre battutine perché ormai è scontato purtroppo il saturn fa fallita è uscito il dreamcast la situazione della siga era diventata un po instabile iniziarono a portare anche giochi della della nintendo prima c'era anche super console che si occupava dei videogiochi appunto di nintendo e basta era specializzato di nintendo poi si fusero insieme rimase il nome mega console ma perso un po il fascino della rivista dedicata al mega drive tutto quanto chissà perché è strappata questa pagina chissà che c'era perché l'ho tolta e devo dire però ho dei bei ricordi anche questo vedete poi è diventato nintendo 64 dreamcast gameboy prima della chiusura essenzialmente purtroppo della 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 testata stessa della della rivista stessa vedete qua quando cito sonic adventure quando è uscito il dreamcast che poi il dreamcast l'ho comprato da un amico dell'università ormai più di dieci anni 12 anni fa a 60 euro con tipo 20 giochi due joypad due memory card ho fatto un affarone veramente contentissimo lo ringrazio tuttora avete wipeout su saturn questa quando era ancora soltanto per mega drive però tra le riviste di console la mia preferita oltre a ovviamente console maniera in cui abbiamo parlato della mia preferita in generale ma diciamo che nel 98 appunto mio mio fratello si regalare la playstation 1 e appunto per questo la mia console nella mia rivista una della mia seconda rivista per console preferita divenne psm playstation magazine 100 per cento indipendente e il mensile per playstation e poi è successo un casino nel 2000 quando uscì la playstation 2 perché fecero psm 2 il nome fu usato anche un'altra rivista si suddoppiarono due psm e poi niente questa era quella che conosciamo tutti noi abbiamo vissuto il periodo con le copertine fatte da artisti indipendenti con i fantastici adesivi per console vedete questo è quello che fanno a fantasy 8 ma sotto c'è quello di metal gear che poi pentoli aver tolto e gli adesivi per le per le memory card cb channel inviato dal giappone qui sulla memory card appunto ed era la rivista più cool da avere in quel periodo proprio perché appunto c'erano questi adesivi c'erano tutti questi extra le bibbie dei codici di cui parleremo a breve ed era figa era figa psm era una figata c'era tutte le novità c'era tutte le novità c'era tutti i giochi che in verità neanche sarebbero mai usciti in in italia c'era appunto l'inviato dal giappone cb chan che faceva vedere in anteprima tutte le novità dal giappone e tra l'altro il mio amico che saluto john kaminari è stato il cb chan per molti anni è stato un inviato dal giappone vedete made in japan per molti anni e veramente io era fichissimo ragazzi era fichissimo tutte le anteprime dal giappone tutti i giochi che sarebbero usciti la top 10 dei giochi più venduti in giappone era il periodo playstation condensato in una rivista fichissima che regalava cose bellissime per personalizzare la propria playstation e la grafica era molto accattivante vedete poi cambiata nel tempo ma veramente lo ricordo veramente con con ardore psm vediamo un po' le riviste le varie copertine questo è tutto fatto da vari artisti la pubblicità dell'epoca bellissime queste cose quando escono fanno a fantasy 9 ed era anche il periodo in cui si faceva la modifica alla playstation che feci feci qualche mese dopo aver preso la ps insieme a mio fratello quando dicevete mio fratello la playstation che mi dispiace appunto ribadire sta cosa ma negli anni 90 2000 la pirateria era rampante e i venditori ambulanti di videogiochi per strada o addirittura sulle spiagge erano ovunque erano ovunque e diciamo la verità ne abbiamo approfittato un po' tutti e cos'è ne poi mi dispiace appunto perché vorrei avere questi giochi che ho comprato farlocchi che ora non ci faccio niente li vorrei avere originali per la mia collezione che sto ricomprando in giappone uno ad uno per fortuna da book off e li pago anche poco non tutti però appunto era questo periodo un periodo in cui si poteva provare di tutto io iniziai mi ricordo anche giochi giapponesi versioni giapponesi che non capivo assolutamente me le sparai tutte per un male a salvare e a caricare ma era questo e prima Metal Gear Solid quando feci la modifica mi dispiace molto Metal Gear Solid Tarocco lo vorrei originale adesso lo vorrei originale invece c'era giapponese lo vorrei originale italiano però ecco diciamo era una cosa brutta questa cosa della modifica ma ha aiutato un sacco di persone a giocare a capolavori che altrimenti probabilmente non avrebbero mai potuto giocare e ha spinto il mercato della Playstation quantomeno in Italia e in Europa in maniera incredibile la Playstation ha dominato, ha completamente distrutto la concorrenza del Saturn polverizzato purtroppo Nintendo 64 ha retto un po' la botta ma insomma era un periodo un po' così un po' wild molto molto wild però appunto nonostante la 7900 lire nonostante la situazione insomma un po' così di pirataggine lo ricordo anche questo con molto affetto e lo ricordo secondo me anche voi lo ricordate molto molto bene e questa è PSM PSM madonna qua è lo Street Fighter Alpha 3 mamma mia eccezionale vediamo un attimo giusto qualche qua sfogliamola sfogliamola un pochino prima di passare vedete i codici prima di passare ad altro più che passare ad altro la vedete che c'è ah madonna ecco guardate questo è uno degli adesivi che si mette sulla Playstation l'adesivo di Street Fighter Alpha 3 si metteva e si attaccava sulla Playstation per Omega Boost oddio uno dei miei giochi preferiti mamma mia che poi ho ripreso in versione giapponese vedete queste chicche era eccezionale insieme a PSM c'era anche senza fare lo schiocco di dita ve lo faccio vedere aspettate un attimo intanto per le copertine la Bibbia dei Codici la Bibbia dei Codici come vedete oltre 500 giochi più 8000 trucchi inediti quintali di codici per giochi giapponesi vedete questa dovrebbe essere la prima la Bibbia dei Codici con appunto tutti i codici dei giochi più famosi niente foto niente squisquiglie direttamente codici perché ragazzi appunto c'era il 56k al tempo con il 56k voglio dire prima di tutto tenevi la linea occupata non si poteva telefonare nessuno poteva telefonare era tutto lentissimo e costava lo scatto cioè come fare una telefonata era costosissimo cioè magari molti di voi sono andati nel periodo ISDN anche se vedendo l'infografica del mio canale so che siete bene o male tutti del mio periodo un po' più giovani un po' più anziani diciamo ma insomma era tutta un'altra cosa e quindi si vede la Bibbia dei Codici con tutti i codici per i giochi principali bene o male si trovavano e ci si divertiva a sbloccare tutto a citare vedete queste belle pubblicità sempre del periodo vi faccio vedere una vedete queste grandi offerte 89.000 lire perché questo Power Glove per Playstation è uscito non lo sapevo vedete il set Tomb Raider 3 Memory Card DualShock 149.000 lire FIFA 99 vabbè non mi piacciono neanche i giochi di calcio però vabbè Tomb Raider 3 99.990 lire guardate Wild Dance che periodo ragazzi che cos'è questo Crash Bandicoot 3 è 94.900 lire era il periodo di DFL 65 era un periodo gli anni 90 inizio 2000 fine 90 ma passiamo alla fine per finire a delle menzioni speciali le menzioni speciali vanno a Game Over rivista di manga e videogiochi della Star Comics che è durato in verità poco perché sono 21 numeri questo è l'ultimo numero che era interessante vediamo il primo numero ovviamente non sono neanche il set però lo faccio vedere partiva vedete con il database questo era uscito Street Fighter 02 Street Fighter Alpha 2 perciò vedere che insomma Ryu con tutti ti spiegava le mosse no? Hadouken Shoryuk Tatsumax Senpukiako grazie a questo anche anche al fumetto di Street Fighter 2 che è uscito in quel periodo pare che quello era Tatsumax Senpukiako non era una parola strana che diceva e faceva vedere anche le ending e poi c'erano i fumetti c'era appunto Street Fighter Victory qua non mi è mai piaciuto in verità non era il miglior fumetto di Street Fighter c'era un bel poster di Fatal Fury con Terry Bogart e poi c'era appunto anche il manga di Fatal Fury Garou Densetsu e poi c'era se non sbaglio anche quello di Samurai Spirits Samurai Shodown forse non c'era il primo numero vedete poi sta il database di Fatal Fury o di King of Fighters in questo caso come quello di Street Fighter essenzialmente questo è King of Fighters forse 98 e Games News vedete questo anche angoletto con le news dei videogiovi le fanno a Fantasy 7 è molto molto carina molto molto carina Game Over a 3500 lire e poi ci misero Gundam Wing non si sa perché nessuno capì perché ci hanno messo Gundam Wing e c'era appunto il no qua non c'era che era l'angolo della posta comunque c'era anche eccolo le le vignette di Samurai Spirits Samurai Shodown carina ma appunto fu un esperimento che non andò tanto bene altra menzione d'onore invece va a Benkyo che non ha a che fare con videogiochi ma era la rivista per appassionati di manga e anime principale vedete questo è il primo numero di Benkyo che dava anche un simpatico CD pieno di pubblicità giapponesi di trailer di anime e altri vari goods era sempre stata interessante anche questa non so mi piaceva ma non mi faceva impazzire era un concetto strano per realtà era una rivista impostata come una rivista di videogiochi perché era poi tra l'altro la stessa casa editrice della di PSM ma che parlava di anime era bello vedere questi anime che in quel periodo poi erano portati spesso dalla Dynamic Italia o da altre produzioni vedete Mononokehime Kiki Serie Experiment Lane rivederlo adesso però è molto molto piacevole i CD erano carini erano pieni di pubblicità giapponesi strambe era un'opportunità per vedere appunto cosa sarebbe uscito in Italia cosa stava uscendo in Giappone vedi Slayers Berserk il primo anime di Berserk in quel periodo insomma aveva il suo perché non mi dispiaceva non mi dispiaceva solo che non ne ho comprati tantissimi usava tra l'altro parecchio 12.900 lire insomma non era un prezzo proprio molto molto basso però insomma è esistito Benchio non ha a che fare con videogiochi ma è una realtà che forse non conoscevate e ora passiamo alla parte finale e quindi ragazzi questa era questa speciale puntata sulle riviste di videogiochi che vogliono fare ad altrettissimo tempo cosa ne pensate avete anche voi avuto le stesse esperienze avete avuto anche voi avete letto le stesse cose se siete invece più giovani le sapevate queste cose conosciate queste riviste conosciate questo periodo storico videoludico scrivetelo nei commenti come sempre quindi da BGiappone è tutto iscrivetevi commentate mettete mi piace condividete a frappè